Domande da fare quando compri casa, guida i consigli pratici. Porre le giuste domande quando ci si trova davanti ad un immobile interessante può garantire l'acquisto ideale ed evitare problemi. Comprare casa non è semplice, soprattutto nel mercato attuale. Bisogna fare attenzione a molti aspetti spesso sconosciuti. Acquistare una casa non è solo una questione pratica, ma anche emotiva. L'importante è non farsi guidare solo dai sentimenti. Verificare la conformità urbanistica e catastale dell'immobile è fondamentale. Tutto si può sistemare, ma è meglio saperlo in anticipo.